Dov'è? Eh, mi sa che l'ho perso. Ah, no. Are you fucking kidding me? Minchia, no. È tutto bianco. No, la patch grigia, no. Allora, la patch grigia c'è chi ci insegna che comunque può avere il suo stile. E comunque con l'uncapello bianco. Adesso l'ho rimischiato con gli altri. Devo andare a ricerciare. No! For guess you never saw it. Sto registrando perché mancano troppi London Log. Non che i mesi passati, come ho già detto in quello che devo ancora montare di London Log, fossero worth remembering. Sono mille anni che non c'è un log. Facciamone un log. Abbiamo Monopoli da poco, in realtà. Dunque, aspetta, log, faccio un attimo di introduzione. Sono mille anni che non registriamo log, ma anche bene perché in realtà non è stato un periodo così worth remembering. Invece oggi c'è Emma e noi facciamo l'albero. Yeee. Ciao. Dunque, papà e bambine, dovete farmi due cose per me. Non ho i nostri per questo, mi dovete fare una cosa che sia filo like perché queste possono essere attaccate all'albero. Vi lascio un gusto copito. E come le troviamo? Non le trovi, un po' di un po' di un po' di un po'. Lo spago da cucina. Con peli umani che mi strappai. Tra l'altro, ecco, l'albero più brutto del mondo ritorna. È un albio, un albio. Avete preso quelli? All'Ikea, devo fare. Conciutero. Sai cosa? Forse per farlo ancora più brutto potremmo appenderle con le anime di ferro, quello per i barattoli. Oddio, anche. Ma vado a prenderle, guarda. Secondo me è un'idea. Tipo, l'anno scorso secondo me queste non le avevamo pensate così. Questa secondo me gli dà già un altro aspetto comunque. Dei foderare il grigio film. Tu sai che è l'usuale, lo sai, sì? Ecco, diciamo che anche questa pallina qua è un po' special needs. Mi sono commossa, noi non ce l'abbiamo l'albero di Natale. Proprio quando mi avete detto così facciamo anche la laurella. Mi sembrava anche l'usuale. Mi è scesa dalla lacrimuzza. Mi sembrava forse ad dettagli. Un po' sì. Non ce l'ho detto. No, 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 guarda. Non mi sono disegnata. Quanti tools utili nella scatola delle necessità. Non sono abituata. Necessità. Le cattolano la stessa. Sì, ma di solito non le esaudisce in modo così efficace. Io non si riesco a salvare questa. Ah, ma proprio bifasico così? Mamma mia. No, vai più in su. Che ce n'è ancora? Tiralo su. Cos'è successo a questo iPhone? There's a reason to be jolly La 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 Come that happened. No, perché? Non c'è problema perché io troppo adesso ci metto una pallina che sarà strutturalmente chiave. La buttare. Adesso ho un problema io. Di natura, di base. Sì. Qua. Gli facciamo tutta questa testa. Dunque. Forse... Di scendere sull'alimina centale. È buona idea. Sì. Sei un genio. Tadà! Ma era che c'è meglio dell'anno scorso secondo me? Perché secondo me sembra un fungo atomico adesso. Povero al mio dame. È proprio brutto, poverino. Le quattro, numero quattro palline albiotiche che abbiamo. Beh, però abbiamo anche le stelline. Ma c'è abbiamo una stella a bella cima? Ma no, però possiamo usare... Boh, non so, vogliamo mettere queste in qualche maniera che stia su. Ma chi è venuta l'idea di adobare gli alberi in the first place? Ma anche l'anno scorso non eravamo averle usate perché ce ne sono anche nella borsa. Le animine di ferro. Ah, me ne dai una? Sì. Beh sì, le mie idee sono quasi sempre le stesse comunque, grazie. È molto albionico comunque. Rosso e blu. Eh beh. È bianco. È bianco. Si tocca con le bandiere. C'è quel pentetone che penso? Ma in realtà doveva essere... Cioè l'idea era proprio di dargli movimento, però... Di grado. È un po' triste solo. Sì. Questo gli girerà intorno in modo morbido per sagomarmi la forma conica. L'anno prossimo voglio il dale che è albero. Comunque c'è il concetto è lo spazio vuoto che lascia... Vabbè. Cosa? No, no, ti prego. No. È arte concettuale questo albero comunque. Se non lo capisci è colpa tua perché sei stupido. Sei stupido. Esatto. Comunque è più quello che non c'è piuttosto che quello che c'è che mi significa, capisci? Certo, è sempre il leggere tra le linee. Ma infatti è il metà testo. Sì, sì, sì. È quello infatti. C'è ancora una. Secondo me... No, è sempre più blu. L'hanno stretto. Era partita bene, secondo me. Poi... Poi... Scusate sono le stelline che lo rinano. Allora le togliamo e le mettiamo un po' in giro. Perché sono un po'... Caotiche. Allora, togliamo le stelline e le mettiamo un giro per la casa. Calze. Finestre. Le calze sul cammino! Sì, e la Marta che si rolla una sigaretta che marca un po' male nel video così. È una sigaretta? Fa vedere che è una sigaretta. Guarda. Guarda che cosa vuole. Guarda una tossica. Grazie, eh. Figurati. Ti voglio bene in chiudere. Ti voglio bene in chiudere. Tanto, tanto. Non si tocca tutta l'Instagram? Non ho quasi più l'ancestità di là, però, vero. Guarda. Ma avete decorazioni per strada, quindi torno... Abbiamo i più brutti della città, secondo me. Sono delle mezze palle rosa. È proprio brutto. Che dici, ma... Rosa? È rosa? Dov'è che abbiamo visto gli alberi interi, Ali? Wow. Il mio fratello. Ah, non stavano gli alberi... Gli alberi, con i veri. Gli alberi. Gli alberi. Gli alberi. Gli alberi. Su ogni... Su ogni lampione. Con le lucine in blu. Cioè, uno dei loro lampioni è il più bello del nostro altro. Sì. Vabbè. 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 Grazie a tutti